Pronto? Pronto? Scusa, è il signor Carlo Verdone? Sì, so io. Ah, buongiorno, senta, io lo disturbavo, visto che ieri era il suo compleanno, io volevo farle con l'occasione tantissimi cari auguri, caro. Eh? Guardi che il compleanno è oggi, non era ieri, c'è sbagliato. Comunque grazie. No, guardi scusi, mi permetta, la data esatta, leggo testualmente 16 novembre 2020, eh? Compleanno Carlo Verdone, scusi, l'avevo già segnato. Guardi, le chiedo scusa, si sta sbagliando, è il 17 che è oggi, quindi lei ha segnato la data errada, mi scusi. Pronto? Pronto? Ma mi sente? un'altra volta che richiama questo. Pronto? Pronto? Sì, Carlo, ho saputo di fare onomastico oggi, auguri. No, ma quale onomastico? È il compleanno oggi, va bene? È diverso, è diverso dall'onomastico, scusi. Eh? Ah, perché oggi non è San Carlo? E poi l'ho segnato io, c'è scritto San Carlo Verdone. Ah no, ah no, era Carlo Verdone. Mi scusi, mi scusi, mi scusi tanto. Ma come mi scusi? Mo mi dai del lei, mi dai. Mimmo. Mimmo. Ho pure questo attaccato, questo. Ma sei tutti pazzi oggi? Oddio, un'altra volta questo? Fammi rispondere, va bene. Pronto? Ma che ho adesso, Christian? È tanto curioso, eh? Oh, finalmente, Christian, ne ti ringrazio. No, perché adesso sto ricevendo un sacco delle parole strane oggi, tutti che si sbagliano, almeno te, eh? E mica abbiamo sbagliato, eh? Oggi è il compleanno di Paolo, tuo figlio. Eh? Ammazza che ragazzone che ti ha fatto. Ma che è il compleanno di Paolo? Oggi è il compleanno mio, Christian. Ma pure te, dai, eh? Eh? Ma è il compleanno tuo. Mi sono sbagliato. E poi ha capitato. Eh no, papà, eh? Sì, però pure te, eh? Pronto? Christian? Ma che sta a fare? Tutti pazzi. Un'altra volta. Questa è l'ultima, però, eh? Pronto? Ciao, noi siamo un gruppo di ragazzi, no? Cioè, cioè, volevo dire. Ciao, sono Ruggero. Tantissimi cari auguri per questo giorno importantissimo per te oggi. Carissimo Ruggero, almeno 10 hai fatta, ti ringrazio. Sono pure tanti e quest'anno sono pure 70. Eh, so. No, aspetta, scusa. Cioè, no, questi sono 50 anni quest'anno. Cioè, è l'anno della cucina alla verde, cioè, no? È il cinquantesimo anno, no? Perché la cucina alla verde, no? Cioè, rispetta l'ambiente, no? Cioè, rappresenta la pace, l'amore, la fratellanza, no? Quindi sono 50 anni, non 70. Aspetta, certo, ti stai sbagliando. Eh? L'anno di che? L'anno della cucinella verde. L'anno della cucinella verde? Ma che veste l'incoglione di tutti oggi? Eh? Che palli! Ah sì? Ma che pallo lo dico io, va bene? Pronto? Pronto? Vabbè, ho capito. Questo compleanno me lo faccio da solo. Tanti auguri caro Carlo, mi faccio da solo oggi. Eh, forse.